Sì, grazie Presidente, un saluto a tutti e innanzitutto grazie per l'attenzione e lo spazio riservato agli Avvocati che indice insomma della consapevolezza che anche gli Avvocati hanno un ruolo da protagonisti in questa vicenda come poi del resto anche i fatti recenti lo confermano. Preliminarmente quindi vado subito al sodo avendo certamente avuto modo già la Commissione di approfondire i fatti storici che do per noti e do per nota la circostanza che i fatti salienti inerenti ai problemi di staticità dell'edificio in questione risalgono appunto nel tempo. Possiamo ritenere che nell'ultimo periodo si sia aggravata la situazione per quelle vicende inerenti alle perizie che ne hanno come dire sancito un problema di inagibilità e di instabilità e addirittura un pericolo di crollo senza segni premonitori. Da qui diciamo che è nata all'urgenza la necessità. Io ci tengo Presidente se me lo consente innanzitutto a chiarire anche in questa situazione un dato che forse è stato equivocato ma all'ordine degli Avvocati di Bari che io mi onoro di rappresentare ha fin dalle prime battute espresso la sua contrarietà e la sua dissonanza rispetto all'ipotesi di un decreto legge sulla sospensione dei termini sulla sospensione della prescrizione e soprattutto sulla sospensione dei processi pendenti. Unitamente, condividendo pienamente la posizione anche delle Camere penali e in particolar modo della Camera penale di Bari questo lo dico perché non ci siano equivoci sul punto. Noi partecipiamo alla conferenza permanente che ha sostituito nella nuova legislazione del 2015 le vecchie commissioni di manutenzione ma partecipiamo come semplici invitati. Non abbiamo diritto di voto, non abbiamo neppure accesso completo alla documentazione quindi possiamo esprimere il nostro parere, la nostra opinione ma non possiamo condividere né come diga in qualche modo contribuire all'assunzione della decisione da parte dell'organo periferico dell'autorità ministeriale. Questo ci tengo quindi se qualcosa può essere stato equivocato è perché non si comprende qual è il ruolo specifico che l'ordine degli Avvocati riveste in seno a quella assise. È solo un ruolo di semplice ascoltatore, di semplice assistente se così possiamo definirla. Naturalmente il rapporto straordinario che da sempre c'è fra la istituzione forense e i capi degli uffici consente che io in quella sede possa esprimere appunto la mia opinione liberamente ma non posso condividere la decisione, mai l'ho condivisa. Pubblicamente abbiamo sostenuto le battaglie insieme alle unioni Camere Penale e alla Camera Penale di rivendicazione di un'emergenza che se da un canto possiamo tutti essere d'accordo nel non definire di calamità naturale perché per fortuna non c'è stata nessuna calamità naturale qualcuno ha detto si è trattato di calamità burocratica, di calamità materiale, di calamità umana però certamente una situazione di emergenza c'è, non c'era, tengo a sottolineare, c'è tuttora. La contrarietà ovviamente alla sospensione dei termini, alla sospensione dell'attività viene innanzitutto sul fatto che eravamo consapevoli che si arrestasse la giurisdizione. Noi come avvocatura istituzionale e associativa abbiamo invece sempre ritenuto che è meglio sacrificarsi e continuare a fare andare avanti la giurisdizione piuttosto che contribuire a una battuta di arresto grave della stessa. In un territorio delicato, difficile, qual è quello della nostra città ci sono 15-16 famiglie di criminalità organizzata che operano sul territorio quindi con un super lavoro da parte della procura e con un super lavoro anche da parte degli avvocati. Consentire una sospensione dei processi significa arrestare la giustizia e anche oltre dal punto di vista tecnico ovviamente in merito anche alle eventuali eccezioni di illegittimità costituzionali sul fatto che si incide sul diritto sostanziale perché si va a sospendere il processo piuttosto che il reato. Queste considerazioni più tecniche naturalmente meglio di me le sapranno svolgere i colleghi penalisti ma certamente condivisibile il fatto che non era certamente questa la soluzione da adottare. Fin dal primo momento noi invece abbiamo segnalato ancora prima che si insediasse il Ministro quindi a scanso di ogni equivoco anche di carattere politico chi assume una funzione istituzionale deve mettere da parte le sue convinzioni politiche e soprattutto da parte le sue simpatie politiche o i suoi atteggiamenti politici. Deve riuscire ad essere neutrale, ad essere imparziale e ad andare obiettivamente alla soluzione dei problemi. Quindi fin dal primo momento in cui c'è stato l'allarme noi tutti insieme, l'Ordine degli Avvocati di Bari, la Camera Penale di Bari i capi degli uffici giudiziali avevamo ritenuto che su si stesse appunto una situazione di emergenza tale da meritare una decretazione che proclamasse lo stato di emergenza e desse accesso a misure straordinarie di intervento. Se fossimo stati ascoltati oltre un mese fa probabilmente oggi saremmo già nella direzione giusta in merito alla soluzione del tema e del problema. Per questa ragione noi abbiamo inteso in via subordinata qualora naturalmente si insistesse nella conversione in legge del decreto abbiamo ritenuto di proporre un emendamento se così vogliamo chiamarlo, io non svolgo attività parlamentare per cui chiedo subito scusa se non ho la padronanza dei termini tecnici di integrazione del decreto legge attraverso l'inserimento di un articolo 1 bis che andasse proprio nella direzione a cui ho fatto cenno poc'anzi. Dico subito ma sono consapevole che la Commissione i componenti della Commissione, lei stessa Presidente, sa quello che sto per dire ma lo dico per completezza di disamina della questione noi sappiamo bene che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito la possibilità che il legislatore nell'ambito dell'attività di conversione del decreto potesse appunto integrare il decreto potesse introdurre nuove norme anche diverse rispetto alle norme proprie del decreto addirittura si è arrivati, e qui vengo anche al punto a concepire la possibilità che il Parlamento introduca delle deleghe addirittura pur non essendo previsti originariamente dalle impostazioni del decreto questo per dire che è l'unica valutazione che va fatta in ordine alla possibilità del Parlamento di modificare il decreto senza stravolgerne l'impianto logico e di scopo è quella appunto di ritenere le modifiche come delle intrusioni o delle cose assolutamente in contrasto appunto con la ragione che ha giustificato l'adozione del decreto e appunto si è arrivati a concepire addirittura la possibilità che il Parlamento potesse adottare delle nuove norme di legge diverse da quella della decretazione di urgenza ed è per questo quindi che noi abbiamo ritenuto di proporre alla Commissione e al Parlamento per il tramite di questa dicodesta Commissione l'introduzione di questo comma che altro non fa che andare al nocciolo del problema che è lo stesso che noi fin dall'inizio abbiamo rivendicato noi riteniamo soprattutto alla luce degli ultimi fatti e delle ultime circostanze sappiamo tutti che il Ministero ha posto in essere una procedura di evidenza pubblica di ricerca di mercato più volgarmente detta per tentare l'individuazione sul territorio nella città di Bari di immobili che potessero ospitare in via unitaria gli uffici penali di Bari per diciamo soprassedere in qualche modo evitare invece di porre in essere la soluzione emergenziale che prevede lo spezzettamento degli uffici dislocando questi in sedi addirittura molto lontane l'una dall'altra e non solo ma anche in un contesto di uffici giudiziari che nel suo complesso non è assolutamente sufficiente ed adeguato a rispondere all'esigenza degli uffici penali di Bari e questo per detta dello stesso Ministero e di questo troviamo traccia evidente ed esplicita nello stesso decreto c'è lo stesso decreto che nel suo preambolo nella sua premessa e lo vorrei rileggere insieme dice testualmente che nei locali così reperiti si fa riferimento alla sede di Modugno e alla sede di via Brigata Bari nei locali così reperiti nella medesima sede di Modugno sono in sé idonei alla risoluzione del problema rappresentato in un altro punto lo stesso decreto dice sia in premessa che nella relazione che sarà difficile obiettivamente impossibile trovare entro il 30 settembre che è il termine di sospensione dei processi di sospensione dei termini di sospensione della prescrizione trovare un immobile che sia idoneo all'uso per gli uffici dei giudiziari penali di Bari e allora se queste sono le stesse premesse del decreto se questa è l'impostazione se lo stesso decreto addirittura in un passaggio dice che sulla base della straordinarietà dell'evento di fatto parificato a una calamità calamità non aggiunge naturale ovviamente il decreto però esprime un concetto che non può restare come dire non ci può lasciare indifferenti è importante perché esprime quel concetto nell'ottica di giustificare l'urgenza ed indifferibilità dell'intervento normativo legislativo anzi meglio dire e allora in quest'ottica se siamo tutti consapevoli che dalla ricerca di mercato sebbene sappiamo che sarebbero stati individuati due immobili nonostante dire io la ricerca di mercato uno di quei due immobili non sarà pronto entro il 30 settembre dobbiamo essere obiettivi anche nell'individuare le ragioni per cui non sarà pronto non sarà pronto perché necessiterà di qualche intervento di aggiustamento e di modifica anche se uno dei due è più pronto dell'altro ma comunque entrambi prevedono interventi di non sulle strutture ma di adattamento degli immobili ad ospitare gli uffici giudiziari sarà necessario quindi riversare delle risorse sarà necessario quindi dare corso a delle procedure previste per legge noi avremo bisogno di fare una procedura di evidenza pubblica per la committenza della progettazione che richiederà dei tempi perché se siamo alla legge 50 sugli appalti pubblici la legge 50 è abbastanza perentoria nel prevedere tutta una serie di procedure e di tempi perché queste procedure vengano a compimento a seguito della progettazione bisognerà fare il progetto a seguito del progetto bisognerà fare la gara per come dire individuare il contraente per le opere e queste opere dovranno essere realizzate ottimisticamente diciamo anche in maniera un po' così fantasiosa potremmo pensare che nel giro di un anno tutto questo possa arrivare a conclusione un anno è troppo un anno è assolutamente troppo un anno è troppo se la giustizia penale barese dovrà essere sacrificata relegata in quella soluzione emergenziale che per detta dello stesso decreto del quale stiamo discutendo la conversione è insufficiente inadeguata e non risolve il problema e allora per questa ragione noi abbiamo ritenuto di proporre un emendamento che attribuisce poteri straordinari al ministero non ad un commissario a un ministero in applicazione di una legge dello Stato che è ancora in vigore anche su questo mi consenta una piccola precisazione che è la legge del 1865 il famoso allegato è l'articolo 7 prevede la possibilità di conferimento di poteri straordinari agli organi dello Stato quindi al ministero se riterrà lo potrà delegare al prefetto ma altrimenti potrà procedervi lui direttamente con poteri straordinari che come diciamo nello stesso emendamento che vi abbiamo fornito gli consenta appunto di andare al di là delle procedure previste dal decreto legislativo 50 che gli permetterà di derogare e quindi consentire la immediata utilizzazione dell'immobile prescelto e sul quale la conferenza permanente abbia espresso il suo parere anche al di là di quelle che sono le previsioni urbanistiche edilizie del vigente strumento urbanistico per la città di Bari perché questi erano i temi che nella precedente ricerca di mercato che si era celebrata un po' di tempo fa non si era riuscito a individuare l'immobile perché quegli immobili che erano venuti ad evidenza appunto erano privi della conformità urbanistica quindi attraverso questo modesto intervento che non toglie nulla a nessuno anzi restituisce credo concretezza e obiettività alla soluzione del problema noi riteniamo che si possa entro il termine assegnato dal decreto di cui stiamo discutendo ritrovare un immobile anzi si può dire che è stato già trovato metterlo subito in uso come si suol dire e così finalmente restituendo alla giustizia barese la dignità di una sede decorosa di una sede adeguata di una sede sufficiente a far davvero ripartire la regolarità della giustizione come il decreto giustamente dice nella sua premessa perché quello è l'obiettivo quindi l'obiettivo è quello lo scopo è quello l'inserimento di questo articolo bis è perfettamente coerente all'obiettivo non si discosta minimamente da quelli che sono i paletti dentro i quali si deve muovere il legislatore nella conversione di questo nonostante ho detto in premessa il legislatore possa addirittura derogare e andare oltre un ulteriore intervento di integrazione del decreto se mi consentite l'inserimento dell'articolo 1 ter riguarda la nostra categoria Presidente mi consentirà una considerazione meno tecnica e più di pancia anzi direi più di cuore gli avvocati a Bari soffrono soffrono davvero immaginate un qualsiasi lavoratore autonomo dipendente che sia che dall'oggi al domani si trova senza lavoro si trova disoccupato ha le famiglie a casa da mantenere ha le spese degli studi ha le spese delle abitazioni da continuare a mantenere è un problema davvero serio ed è per questo anche che noi abbiamo espresso la nostra contrarietà perché eravamo consapevoli che questo avrebbe causato un arresto dell'attività professionale per gli avvocati iscritti al nostro albo che io mi onoro di rappresentare ma arrestare l'attività dell'avvocato significa arrestare l'assistenza del cittadino significa mettere a repentaglio il cittadino significa diniegare giustizia al cittadino significa in qualche modo mettere in discussione la funzione fondamentale del nostro ordinamento che è quella giurisdizionale che è una funzione primaria e quindi non è stranio parlare di attenzione rispetto alla democraticità dello svolgimento dei rapporti e delle dinamiche sociali ed è per questo che abbiamo pensato di proporre con l'articolo 1 ter lo slittamento in avanti nessun condono nessun abbonamento come si dice nelle nostre parti solo uno slittamento in avanti delle scadenze degli adempimenti fiscali per gli avvocati iscritti all'obbligare se è vero come è vero che è in avanti e non si sa di quanto in verità perché al di là del 30 settembre nell'ottica disegnata gli avvocati rischiano di continuare a non lavorare anche dopo il 30 settembre perché il 30 settembre scadrà il termine di sospensione ma prima che l'attività giudiziaria riprenda davvero il suo proficuo e regolare svolgimento e quindi riportare il beneficio della giustizione alla collettività e fra questa anche gli avvocati ce ne vorrà di tempo tutti gli adempimenti che sono stati già da chi ci ha preceduto come dire accennati e come meglio diranno i miei colleghi penalisti quindi se vogliamo davvero aiutare la collettività barese gli dobbiamo restituire immediatamente una sede adeguata per gli uffici giudiziari e restituire immediatamente la dignità del lavoro agli avvocati baresi grazie